Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi video con doppia review ciotta per voi. Infatti andiamo ad analizzare insieme il rendimento di Nico Williams, RTTK e di Yamal Potm. Usciti nella giornata di ieri, giocatori chiaramente che hanno dei pregi e dei difetti e spero che con questo video vi aiuti a risolvere tutti gli eventuali dubbi che avete sullo sbloccare o meno questi calciatori. Partiamo proprio da Nico Williams, l'esterno spagnolo in forza dell'Atletic Bilbao è un giocatore che in questa sua versione riceve un più uno di overall e un più uno e un più due di statistiche, quella puntellate. Si tratta però di un giocatore dinamico, ciò significa che in base al rendimento dell'Atletic Bilbao in Europa League questa carta potrebbe upparsi. E infatti nella sezione profilo troviamo proprio le modalità diverse di upgrade. Tre vittorie nella fase a gironi dell'Europa League più uno di overall, uno più gol segnati in quattro partite differenti della fase a gironi più uno di overall e un ruolo plus plus. E infine fase a campionati, quindi a girone conclusa nelle prime due posizioni, uno stia di gioco plus e un ruolo plus plus per questa carta, che invece per quanto riguarda posizione preferita e alternativa, il playstyle rimane invariata. Playstyle è il rapido plus che ci piace e ci aiuta ad introdurre quello che è il tema delle statistiche di questa carta. E partiamo dalla velocità. 94 di velocità per questo Nico Williams con 95 di accelerazione e 94 di velocità scatto. Proprio combinato al suo playstyle ci danno un giocatore che è tremendamente veloce con lo speed boost, soprattutto quando c'è da lasciare e bruciare l'avversario sul primo passo, lui va via. Poi è dotato di una buona fisicità, quindi non sempre difensori, terzini, centrocampisti, esterni riescono a stare dietro, perché anche se provano a dargli delle spallate, Nico riesce a reggere abbastanza bene. Poi anche una volta esauritasi la spinta del boost, riesce in campo aperto a mantenere questa falcata e quindi a dirigersi tranquillamente in area di rigore, dove però purtroppo il 76 di tiro un po' si sente. È vero che è penalizzata la statistica complessiva dal 66 di tiro al volo e dal 63 di rigori, ma comunque quel 79 di finalizzazione e di potenza tiro poteva essere un po' meglio. Motivo per il quale vi spoilerò lo stile d'intesa che uso, che avete visto anche voi, che è finalizzatore per cercare di alzare quanto più possibile finalizzazione e potenza tiro, però ovviamente non pensate che adesso la finalizzazione è 91, perché questo più 12, sapete che i boost che danno in stile intesa sono sempre molto marginali e non rispecchiano mai il reale numero che poi deriva dalla loro applicazione. Per quanto riguarda i passaggi, ci interessa un po' tutto relativamente quello che ci importa di più è il passaggio corto, perché giocandolo presumibilmente in fascia ci sarà la classica situazione che magari si libera la punta al centro e voi vi andate a fare o un driven pass oppure un player lock con passaggio rasoterra dritto dritto sulla punta che poi magari può puntare l'aria. Quindi quell'84 lì non è male, con i passaggi se l'è cavata abbastanza bene. Per quanto riguarda il dribbling, anche devo dirvi la verità, nonostante sia un giocatore dato di una bella stazza, si muove abbastanza bene nello stretto sia con l'L1 quando deve speedboostare, sia con l'L2, R1, R2, che se ne voglia in base ai vostri tasti, per fare la fantomatica danza sul pallone. Si mette lì a temporeggiare bene, riesce a trovare poi il pertugio giusto, perché chiaramente se riuscite a far smuovere la difesa lui si va a incuneare lì in mezzo. Per quanto riguarda la difesa, quando lo prendete manualmente e ritornate indietro, questo comunque essendo fisico è una hit da fastidio, infatti nei minuti finali può diventare un fattore, e infine abbiamo un ottimo 82 di resistenza e abbiamo una leggera pecca su forza e aggressività. Aggressività ci interessa poco, mentre la forza, vi ripeto, per quanto riguarda questa carta qui, si sente poco, perché comunque ha un gran body type. Veniamo agli stili di gioco, perché anche questi sono notevoli, vi dicevo del Rapido Plus che serve fondamentale per fare gli speedboost alla pari del razzetto, ma poi abbiamo altri quattro parametri incredibili per come la vedo io, ovvero il razzetto bianco che in combat rapido è devastante, la batteria per cercare di aumentare ancora di più la durata del nostro Nico Williams, e poi abbiamo trivele e tiri a giro, quindi tutto quanto quello che è il comparto di tiri da fuori, tiri a giro, discreti, le trivele al momento sono molto più rotte, e Nico Williams avendo 4 skill e 5 tipe de debole vi permette di poter fare la trivele sia col destro che col sinistro, quindi una imprevedibilità unica per questo giocatore, anche se si trova fuori dall'area di rigore. Per quanto riguarda invece i ruoli, abbiamo il plus dell'attaccante interno per l'esterno destro, il plus dell'ala e il plus plus dell'attaccante interno per l'esterno sinistro, mentre per la S che poi dove lo gioco io non abbiamo niente, ma sti cavoli io lo gioco infatti comunque attaccante interno senza farmi troppe pippe mentali. Quindi vi dicevo, costo 500k, sinceramente un po' altino, però per quanto riguarda quelle che sono le caratteristiche di questo giocatore, le possibilità di upgrade e soprattutto la possibilità di poterlo portare a casa con dei non scambiabili, sinceramente io un pensilino ce lo farei, io ad esempio ho pagato tipo solamente una sfida tipo 60-70k e poi l'ho fatto con i doppioni che avevo nel club, quindi praticamente pagato meno di 100k, per me è un affare. Per me è promossissimo, ripeto lo stile di intesa finalizzatore, però valutate bene perché comunque è una carta bella costosa. Vediamo adesso a quella che secondo me è la nota un po' più dolente di questo video e sto parlando di Lamin Yamal. Nella sua versione POTM, giocatore di 1,80m, 4 skill, 3 di piede debole che non ricevono upgrade in questa sua versione POTM, può giocare a D e D e a S, quindi può spaziare sul fronte d'attacco della nostra formazione e andiamo subito a parlare del prezzo perché parliamo di un giocatore di circa 200k che ripeto non ha ricevuto né upgrade di piede debole né un playstyle plus, quindi già questo un po' mi fa storcere il naso. Analizziamo le statistiche, 88 di velocità complessiva con 90 di accelerazione e 87 di velocità scatto, un giocatore che ha un buono speed boost ma non ha uno speed boost incredibile anche perché non ha playstyle plus degni di nota, un tiro che sulla carta ci sta, davanti la porta in teoria dovrebbe buttarla dentro eppure a me mi è capitato in un paio di occasioni senza time da tu per tu col portiere che me la sparasse alta e questo mi ha fatto infastidire non poco perché appunto il tiro dovrebbe essere una delle cartucce primarie di questo Yamal. Per quanto riguarda il passaggio, stesso discorso per Nico, abbiamo un buon passaggio corto che è l'86 che alla fine è quello che ci importa per le varie situazioni di gioco che creiamo con l'esterno per servire la punta al centro o magari lo scarico verso un centrocampista, dribbling si muove molto bene, una danza sul pallone eccezionale, un L1 per speed boostare molto preciso, fa anche discretamente bene i movimenti della levetta seppur quest'anno i movimenti sulla levetta non sono veramente niente di incredibile, male male la difesa che ci importa poco ma male male anche le stazioni di fisico se noi andiamo a guardare perché tra tutte spicca il 65 di resistenza. Ebbene io su questo devo andare a spezzare una lancia in favore di questo Yamal perché nonostante appunto quel valore pessimo io l'ho giocato praticamente per due partite 90 minuti a tambur battente a giocare solo con lui a speed boost e intorno al 75esimo aveva comunque ancora il 62% di stamina quindi più della metà. Onestamente non ho capito quel parametro, non vorrei che fosse un errore che poi verrà corretto. Per quanto riguarda i playstyle abbiamo il tiro a giro anche per lui, il razzetto bianco che lo aiuta negli speed boost e il tecnico con le giocate di classe. Quindi comunque degli ottimi playstyle che aiutano questo Yamal ad essere per me molto performante. E per quanto riguarda i ruoli abbiamo le D con attaccante interno, la D con attaccante interno plus e alla plus e la S con alla plus. Vi dicevo di uno Yamal che comunque è abbastanza dinamico, rende discretamente, però comunque dobbiamo fare due calcoli e il calcolo che io vi faccio è che comunque con 200k sul mercato poco più andate a prendere uno chiesa che almeno al tiro a giro plus ha un qualcosa di più oltre che c'è anche lo speed boost migliore. Potreste aspettare e pensare di fare la giocata prendendo uno chiesa che per me è più forte di questo Yamal. Secondo me è un'ennesima occasione persa perché questo è il giocatore più hype di quest'anno, non gli costava assolutamente niente farmelo magari 4-4 e dargli un playstyle per far venire anche voglia alla gente di riscattarlo. Per cui per me per 200k se Nico era un sì con ovviamente valutazione delle proprie disponibilità assolutamente questo Yamal è da scartare. Raga per questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti se avete sbloccato uno di questi due giocatori se vi aspettavate soprattutto di Yamal un po' più forte e soprattutto vi ricordo che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma viola dalla mattina fino al primo pomeriggio e vi ricordo poi di lasciare un bel like e un commento. L'iscrizione al canale già lo sapete. Un salutone a vostri liberoschi, vi auguro un buon sabato e fate i bravi. A presto, ciao! 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 Grazie.